Siete musicista di voi? Sì, e siete venuti qui a Bologna tutta fredda? Appena raggiunto il telegramma. Attraversare mezza Europa per arrivare qua sotto la piota, sotto il fango, e ti parla tutto intanto. Sognante. Non lo immaginavo, li avevo persino portavano. Guardate, dottore, un cesto di tartuffi. Il signor Rossini è un grande appassionato. Due uova che hanno un cesto di tartuffi, una serata tutta bassa. Per me? Non mi sembrava che stai a sé. Stai lì Lai, signor Si Signor Si, hai lì Lai, signor Si Signor Si Due uomini e un gesto di tartufi, una sera d'avattuna bassi. Beh, un buon soggetto per l'oltre.